Nome? Vito. Cognome? Murrone. Età? 38 anni. Città natale? Svizzera. Che lavoro fai? Bartender. Classico freestyle? Classico. Perché? Perché il freestyle mi piace ma non ho tempo per allenarmi. Nome del locale e dove lavori? Caffè Arcadia. Cosa ti piace del tuo lavoro? Tutto, dal contatto con la gente alla preparazione di drink nuovi, la presentazione totale. Hobby? Hobby pesca. Il nome del tuo cocktail absolute? Galatron Peach. Perché dovresti vincere tu? Perché secondo me è buono. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Votatemi, votatemi, votatemi. Fai un saluto? Ciao a tutti.